Ben tornati qui al Palo Don Bosco, siamo con l'allenatore della Pallamona Marsala, Tumbarello. Complimenti per tutto per la partita, è stata una bellissima partita per entrambe le squadre, ma la sua ovviamente ha dimostrato di poter vincere. Secondo lei qual è stato il segreto della vittoria di questa partita per la sua squadra? I ragazzi inizialmente la temevano molto la partita, perché essendo molto giovani, una squadra molto esperta, gente grande, hanno iniziato col piede giusto, con le motivazioni giuste. Hanno sbagliato di meno le scorse partite, quindi questo ha fatto sì di tenerci sempre punta e punta, perché anche nelle nostre partite, durante il nostro campionato abbiamo sbagliato parecchio. Questa partita è stata perfetta, i ragazzi hanno giocato veramente bene e sono contento per loro. Invece una parola di merito di Giovanni Salvatore Valerio, che è il top scorer di questa bellissima Pallamona Marsala. Questo ragazzo è cresciuto da voi, cosa ne pensa? Cosa può meritare? Cosa può ambire soprattutto? Si sta allenando bene, ha molta passione, come quando ero piccolo io. La forza per crescere e diventare forti è avere una grande passione. Come c'era lui, si allena con costanza, impegno ed è in prospettiva un buon giocatore potrebbe diventare. Quindi ci stiamo lavorando e sono felice per lui, che comunque fa delle belle prestazioni. Ringraziamo l'allenatore della Pallamona Marsala e termina qui la partita fra Pallamona Marsala. Ribadiamo il risultato per 25-27 per gli ospiti.